Un grand'uomo non cerca di essere un leader. È chiamato a esserlo. E se io non fossi il futuro della casa Atreides? Sarai comunque quello che desideravo tu fossi. Mio figlio. Dal regista Denis Villeneuve. Gli stranieri saccheggiano le nostre terre sotto i nostri occhi. Sono crudeli verso il mio popolo. L'inizio di un viaggio straordinario. Solo uniti abbiamo una speranza. Combattiamo come demoni. Dune, dal 16 settembre al cinema. Grazie.